L'ultimo passaggio della trasformazione di Piazza Carducci, la pedonalizzazione, sperimentale per adesso, ma c'è tutta l'intenzione di ripeterla regolarmente senza escludere un futuro esclusivamente pedonale. Il primo weekend di chiusura al traffico della rinnovata piazza di ingresso al centro storico sarà quello di Ferragosto, da venerdì 13 a domenica 15, dalle 20 alle 2 e poi i successivi due fine settimana di agosto negli stessi orari serali. Via Oberdan sarà chiuso da Transcend artistiche e ci sarà personale addetto per dare indicazioni. Ovviamente questa non è che è un'invenzione dell'amministrazione, è una cosa che abbiamo concordato con le categorie economiche, con le attività economiche che sono sulla piazza ma anche con l'associazione di categoria. Era già nell'area che si doveva fare questa cosa, abbiamo trovato il sistema, la logica per poter fare questa chiusura. è una prova che facciamo ovviamente consapevoli di quello che dovrà diventare la piazza Carducci perché noi riteniamo che questa splendida piazza, questo splendido scenario debba essere a misura pedone. Uno stop alle auto e alle moto chiesto da più parti per dare davvero un'identità all'area su cui si affaccia la Rocchetta Righina e la Fontana del Bichi, che oggi ritrovano la loro centralità, ma anche per risolvere le oggettive difficoltà riscontrate, soprattutto di sera in piena movida, nel far rispettare alle auto e ai mezzi di carico e scarico la nuova viabilità di piazza Carducci riaperta inizio giugno.